Un mio amico che è stato anche, che sono a Gottardo, si chiama una persona molto per bene, faccio un analista di Padova, una persona molto per bene, ma si può giustificare uno che ti ammazza per un pezzo di lamiera? Ma chi è sto Gottardo? Grande Gottardo! Ma chi cazzo è Gottardo? È un grandissimo, è un conduttore radiofonico di Padova, è una persona molto per bene, non ho mai detto, chi denuncia, non ho mai giustificato nessuno, ma chi è sto Gottardo? Come si chiama di cognome sto criminale? Uno che dice, voglio prendermi il coronavirus per portarlo in radio, come fosse un ospite, secondo me è un coglione e la magistratura di tutto il mondo secondo me mi darà ragione. Abbiamo il Gottardo multiforme, quello che in base a chi chiama dispensa consigli su tutto pur non sapendo un cazzo di niente, questo è il tema, vero? Coglione! Non distrugge, non hai mai fatto il giornalista, non hai mai fatto l'esame, Somaro, 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 ha distrutto il giornale, ti mandava a raccontare i gatti che si arrabbichero sugli no, mi mandava a prima pagina, è un parassita schifoso come on and fuck the slow mo